In tasca aveva 20 grammi di shabu, la cosiddetta droga dei kamikaze, della famiglia delle anfetamine, diffusa soprattutto nelle comunità asiatiche, molto potente ma anche costosissima. Il suo prezzo di mercato, a seconda della purezza e della provenienza, oscilla infatti dai 100 ai 500 euro al grammo. A fermarlo ed arrestarlo, gli agenti della polizia stradalina 1, l'uomo, un 25enne italiano, è stato fermato a bordo di una Fiat 500 L, allo stop è apparso subito, terrorizzato e così è stato perquisito. Dai pantaloni sono saltati fuori due involucri di cellophane contenente lo stupefacente, ovviamente sequestrato. Sempre poliziotti della sottosezione di Battifolle hanno poi fermato anche una banda dedita ai furti nelle auto in sosta. Gli agenti, insospettiti dal fatto che la loro vettura risultava da giorni ferma all'interno di un autogrill, si sono appostati per fermarli e controllarli. Dentro c'erano numerose apparecchiature elettroniche, pc, cellulari e tablet rubate nelle auto in sosta all'autogrill. I tre sono stati così fermati per ricettazione ed accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.